Sede dai limiti esterni della provincia di Monteprianza fino al capoluogo, attraverso tutti i comuni, per sostare davanti ai monumenti per un singolo e memoria del sacrificio delle comunità locali. Rappresenti idealmente il percorso dei costritti della Grande Guerra, dalle loro case, dalle loro piazze, dei loro paesi, verso la sede del distretto principale di appartenenza e quindi verso il fronte. Inno nazionale, posto, atti! Rappresenti idealmente Rappresenti idealmente il percorso dei costritti della Grande Guerra, dalle loro case, 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 dalle loro case. Rappresenti idealmente Rappresenti idealmente ilainted실 qui vengono resi gli onori ai caduti pienamento attenti attenti vengono vi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.